Una mostra per raccontare 40 anni di attività di un sodalizio che oggi conta 38 componenti, da vecchie firme della fotografia a giovani emergenti. È quella inaugurata a Gualdotadino in Piazza Garibaldi, visitabile per tutta la settimana, con scatti riprodotti in grandi dimensioni su tema libero. A realizzare gli scatti il gruppo fotografico gualdese. Questa mostra è una mostra collettiva dei soci del gruppo fotografico gualdese. Abbiamo fatto queste foto in Forex 60x40, giusto per cambiare un po' la forma e lo spirito della mostra, anche perché quest'anno è il quarantesimo anno della fondazione del circolo fotografico. Mi commuavo anche un po'. Comunque sono 16 autori, ognuno con un tema diverso, che si spazia dalle foto vecchie, le foto che rappresentano i lavori più umili, le foto di auto, animali, addirittura le frecce tricolori, il malamacro dovuto a quello che l'ha fatto il dottor Ramonio, che si è dedicato, è molto difficile. Ci siamo impegnati molto e abbiamo realizzato questa cosa, speriamo che piaccia e aspettiamo la gente che ci venga a visitare. Dalle mongolfiere di Todi alle frecce tricolori di Foligno, alle libellule catturate con uno scatto sullo specchio d'acqua di Valzord e dintorni, fino alle feste folcloriche di Francia, c'è tutto in foto per un percorso emozionale che nasce da un'ottima conoscenza della tecnica. Nell'era degli smartphone, dalle mille funzionalità, tutti scattano foto, ma quanti sanno anche come scattarle? Pochissimi si avvicinano alla tecnica fotografica. Adesso noi fra ottobre e novembre cercheremo di fare un corso di base di fotografia proprio per insegnare a fotografare, partendo dall'ABC della macchina fotografica fino allo scatto vero e proprio. Poi dopo ci sarebbero anche altre cose da approfondire che vedremo se riusciamo a farle.